Beh ragazzi sono il Pokemon Collector, buon sabato e benvenuti in un video sistemazione. Oggi, come già vi avevo detto mercoledì, andremo a sistemare la pokeposta, quindi le carte sono queste qua. Adesso le imbustiamo e poi un album alla volta le andiamo a mettere via. Allora, vediamo un po' cosa. Le WS direi che siano già imbustate, sì. Anche questa, anche Colossal, mentre queste no. Quindi iniziamo a imbustare. Allora, domani, in via del tutto eccezionale, uscirà un video. Perché, come ben saprete, settimana scorsa c'è stato il Rimini Comics. Inizialmente volevo fare un vlog, nel senso filmare lì mentre ero là, cosa facevo durante la giornata. Ma dato che non è stato ricco di cose interessanti, il vlog sarebbe stato abbastanza triste. Quindi ho pensato di fare un video veloce in cui vi racconto cosa ho fatto quel weekend, come è stata la fiera, cosa ho comprato, dopodiché ve lo farò vedere e andremo a metterla a posto. Non volevo, appunto, sprecare un video del mercoledì e del sabato per questo piccolo video, quindi ho deciso di farlo la domenica. Sarà comunque interessante. Qualche carta l'ho comprata, qualche aneddoto interessante c'è stato, quindi se vi interessa il genere, domani guardatevelo. Purtroppo non ci siamo incontrati con molti di voi, perché comunque diciamo che non sono stati in grado di pianificare il weekend, dato che ci sono stati vari eventi che hanno un po' scombussolato. Qualcuno l'ho incontrato, quindi mi ha fatto piacere. spero vi siate... vi avrebbe fatto piacere anche a voi. Con gli altri comunque avremo altre occasioni, nel senso che hanno già confermato il Luca Comics, a meno che non ci sia, non succeda qualcosa di strano nei prossimi mesi, tipo pandemia. Però, chi lo sa, vedremo un po'. Per il momento l'hanno confermato, mi sembra dal 29 ottobre al primo novembre, speriamo. Adesso inizio a informarmi un po' per le case. E speriamo di vederci lì, anche perché un evento come il Luca Comics non ce ne sono. E attendo quell'evento in maniera incredibile per tutto l'anno, quindi spero vivamente che lo facciano. Qua siamo a stile di lotta. Questo qua, ricordo, è la poche posto di mercoledì, che avete già visto. Ho già un altro po' di poche posto pronto, quindi prossimamente andremo avanti. Ok, le carte sono queste qua. Le divido un attimo per più o meno generazione, così facciamo meno confusione a metterle via. E poi andremo a metterle a posto. Stile di lotta, stile di lotta. Una marea di destino splendente, infatti oggi vedremo un po' il set prendere forma. Manca ancora abbastanza, però ci stiamo procedendo. Voltaggio, X e VS. E si rilotta. Direi di andare al Nord in cronologico, quindi partiamo con Neo Revelation. Eccoci qua. Oh oh. Ah no, in realtà non mancà, ce l'avevo già, però l'ho già messa via, perché dato che sapevo che già l'avevo comprata, l'ho messa nell'album per i Rimini Comics, così ce l'avevo disponibile. Quindi qua ce l'ho, idem di Rei Selby, dovrebbe esserci il buco. E infatti è qua. Bella bella questo. E il Neo Revelation è ufficialmente completato. Quindi tutto nelle condizioni come le voglio io. Unlimited. E ci siamo. Qua non ci sono le reverse, quindi non c'è quel problema. Però, set archiviato. Passiamo direi alle VS. Anche qui in realtà non siamo messi malissimo. Non dovrebbero mancare troppe carte. Vediamo un po'. Allora, manca una lì che non penso di avere. Potrebbe essere il Gengar. Mortis Gengar, infatti, dovrebbe essere lui. Qua non ho più pari di idea. Qua ci siamo. La 99 è di Kusube e di Aerodactyl. Qua ci sono le carte che vi dicevo l'altra volta. Il Gyarados, il Chizer, il Kingdra qua dietro. Anfaros e Dragonite che non si vede, però è qua. Poi, 109. 113. E infine 124. Quindi, mi manca il Tiranitar fuori serie. 2, 3. Quindi solo due Cubotti non è male. C'è un po' di sfarfallio. Dovremmo esserci. 1 e 2. Quindi, se direi... Mi sono perso. 2, 3, 4, 5 carte. Confermo 5 carte per completare il VS. Tanta, tanta roba a questo giro. Così, dato che è un set che comunque ho iniziato l'anno scorso. Un po' così per svago. Perché comunque c'era un altro che mi piaceva, quindi ci tenevo a farlo e... Ci siamo. Così completo. Manca pochissimo e poi archiviato. Ok. Possiamo un set un po' più recenti. No, in realtà no. Passiamo ai set ex. Abbiamo una carta di leggenda di Mew. Ed è la 77, che è strana caverna. Che è... Qui. C'ho ancora qualche carta a sostituire. Direi 4, 5. Di cui una... Ce l'ho già qua. Nella... Nella poche posta prossima. Due dovrebbero arrivare. E una invece devo comprarla. Che direi sia Arcanine che devo sostituire. Arcanine X. Però... Poi ci siamo. Quindi... Non malissimo, dai. Ok. A questo giro passiamo davvero ai set più recenti. E andiamo con... Voltaggio sfolgorante. Abbiamo solo una carta da mettere via. Ed è il Quolossal Hyper. Bellissimo, tra l'altro. La 189. Anche qui andiamo molto a rilento, però... Piano piano procediamo. Sta iniziando a prendere forma al set. Il Picchu c'è che è già tanta roba. E qua siamo messi così. Va bene. Tanto avevo comprato una carta, mi sa vista telescopica. Che non mi è mai arrivata. Non so se... Non è mai stata spedita. Comunque... Non... Si è persa, però... Non è arrivata. Allora... In quest'album abbiamo anche Destino Splendente. E qua ci mettiamo un pochino di più. Perché le carte, come vi ricorderete, sono tantine. Allora... Set Regular. L'avamo già visto ed è completo. E qua iniziano le Shiny. Quindi andiamo per tipologia. blip pack... Grooky... Une manca uno, due e tre. Poi abbiamo Fuoco. Non so se c'è qualcuno. Sì. E tiro già fuori anche Acqua. 15 33 e 21 poi mettiamo già per tipologia facciamo prima 49, ok Corsola 73 Grapploct Carcall 68 65 Yamask 78 Zigzagoon 79, 80 e 81 Nikit qua siamo un po' messi male ancora 89 Corviknight e infine 97 Bundleby ok e qua invece abbiamo le nostre full che ufficialmente completiamo con un ditto ce lo riguardiamo un attimo ce l'ha ritardata tanta roba e qua il buco che andiamo a riempire vi tolgo un attimo la mia telecamera così ci godiamo meglio questo momento et voilà full di destino splendente shiny completate va dai da vedere ammetto che sono sempre belle farò anche un video prossimamente con le full art shiny mettendo insieme destino sfuggente e destino splendente perché meritano ok ultimissime carte da mettere via abbiamo stile di lotta quindi cambiamo album ok ok allora abbiamo un po' di carte normali e 3 full barra gold allora Vivian meosti 61 65 orbital 77 mihan shao e stilix che è la 99 poi qua siamo ancora abbastanza in alto mare 147 e 160 infine l'energia gold dovrebbe essere l'ultima del set tra l'altro quindi vediamo quanto manca e dobbiamo prima o poi arrivare qua semmai riuscirò a mettere ok tra l'altro abbiamo anche l'optiller che non fa mai male guardiamo solo un attimo si lotta così ci rendiamo conto come siamo messi l'asset regola come sempre messi abbastanza bene qualche carta qua e là ma nulla di preoccupante direi si può fare tranquillamente e qua la solita tragedia e qua c'è regno e la ciale che vedremo vedremo un po' domani col video di Rimini ok direi che per oggi sia tutto spero che sia piaciuto il video abbiamo sistemato a poche posta di mercoledì vi ricordo domani video su Rimini mercoledì andremo a malattie con qualcosa penso video collezione e poi mano a mano gli altri video io vi auguro ancora un buon weekend spero vi sia piaciuto il video lasciando un like se vi va iscrivetevi se non l'avete fatto e ci vediamo nel prossimo video ciao 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 Grazie per la visione!